Nei giorni scorsi, immediatamente dopo la tragedia, il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha emesso un'ordinanza per abbattere senza se e senza ma l'orsa. È intervenuto il TAR che ha fermato l'ordinanza. Corona e Travaglia hanno detto che l'orso nel bosco fa l'orso e se si ha la sfortuna di incontrarlo in determinati momenti può accadere la tragedia. Che voto dai invece a Maurizio Fugatti? Ti chiedo il voto però dopo aver visto le parole che ha detto il presidente della provincia. Vediamo. Sto avendo notizia di tanto interesse da parte del mondo fuori da qui che ci vengono a dire, presidente non abbattete JJ4 perché abbiamo trovato un posto qua, abbiamo trovato un posto là. State sereni, ne abbiamo 70 da spostare. Portateci nomi di dove li volete, abbattiamo questi tre qua, poi ne abbiamo altri 70 da portarvi a tutti questi che fanno filosofia, che fanno cultura sulla gestione degli orsi. State tranquilli che offerta di orsi per i vostri territori disponibili ce n'è in abbondanza. Andrea che voto dai al presidente della provincia di Trento? Gli do due, un due convinto e un due anche abbastanza arrabbiato, arrabbiato da animalista, da vegetariano oppure da antispecista. Diciamo che appartengo a quelle categorie che Fugatti sicuramente non ama. Intanto Fugatti vorrei dire cosa ha da ridere o da sorridere o da fare sarcasmo su un tema del genere. Ha risposto a una problematica drammatica come rispondono quelli sul tema migranti, prendeteveli a casa vostra i migranti. Qui ha detto la stessa cosa, prendetele a casa vostra i orsi. In questo paese abbiamo un problema di classe dirigente imbarazzante, perché questo qui è colui che gestisce la provincia autonoma di Trento. Per chi non lo sapesse è anche uno, questo Fugatti, che 12 anni fa, quando era segretario della Lega Trento, organizzò un banchetto durante una festa della Lega facendo il banchetto con la carne di orso. E questa cosa fu bloccata dai Nasse che arrivarono e gli dissero ma siete fuori di testa. Cioè questo è Fugatti, uno che adesso gestisce questa problematica, non è esattamente Churchill. Allora il tema è drammatico, è tragico, la notizia principale è la morte di questo ragazzo incolpevole, massima solidarietà, l'abbraccio, l'affetto alla famiglia e anzitutto alla fidanzata. Però avete detto tutto voi nel blocco precedente, l'ho detto Corona, l'ho detto Travaglio. Purtroppo gli orsi fanno gli orsi, quindi al netto del fatto che il ripopolamento delle Alpi centrali con gli orsi qualcosa non ha funzionato. Il progetto Life Ursus che nacque nel 96 qualcosa non ha funzionato, gli orsi sono diventati troppi, non sono gestibili, probabilmente c'è stato qualche incrocio che non ha funzionato, però al netto di questo gli orsi fanno gli orsi. Nel bosco l'orso fa quello che è nella sua natura, quindi reagire a una tragedia, aggiungendo un'altra tragedia, cioè occhio per occhio, dente per dente, è folle, è sciagurato, è fuori da ogni logica, si deve fare quello che si può fare in questi casi, cioè anzitutto purtroppo accettare il rischio ineluttabile della tragedia. Dopodiché, come diceva Corona, si cerca di ovviare alle tragedie come con gli spray, con la cartellonistica o nel peggiore dei casi con le riserve. In Slovenia, perché gli orsi vengono dalla Slovenia, fanno così, ci sono delle riserve naturali, al peggio fai questo, ma ammazzare un orso colpevole di essere orso è una follia che può venire in mente soltanto a una certa categoria di partiti e di politici. Grazie. Grazie. Grazie.